Il maestro Sakurov ci ha portato il sole da San Pietroburgo. È un'emozione immensa, gli dedicamo, come sapete, alla sezione dei protagonisti del cinema europeo, con una rassegna di dieci tra i suoi migliori film. L'omaggio, come ho detto, è curato dal nostro grande amico, uno dei più bravi critici cinematografici italiani, Massimo Causo, che ci segue da tanti anni, con cui collaboriamo da tantissimi anni. E un ringraziamento particolare va assolutamente da Leona Ciumacova, con la quale c'è una sorta di notizia che ha venito appunto da dieci anni. Come dicevo, quando mia madre Cristina abbiamo incontrato il maestro in tante occasioni, abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere presenti anche in un festival all'estero dove il maestro veniva celebrato, in Portogallo, a Lisbona, così come al festival di Locarno, certamente a Venezia siamo stati felici di aver condiviso questi momenti indimenticabili della vittoria del Leone d'Oro. E quindi grazie, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Come sapete adesso ci sarà una masterclass e stasera alle 20.30 in questa sala ci sarà una presentazione appunto del maestro da parte di Marco Müller che vorrei salutarsene con un applauso. Il presidente della giuria qui in sala, produttore di Sakurov. Insomma, Marco anche a te un grazie con tutto il cuore. Vorrei che passate la parola per un saluto. Intanto grazie. Io vorrei portare il saluto di tutta la comunità cinematografica pugliese e italiana perché per noi è un grande onore averti qui maestro. Noi siamo una piccola regione che però ha tanto da dire, tanto da raccontare e vorremmo formalmente, tra l'altro, invitarti, qualora tu volessi a battere un po' la nostra terra dal punto di vista della produzione cinematografica. Il mio è un invito chiaramente generale. So che hai tantissimi progetti e come dire, noi siamo qui a disposizione tua e della tua produzione. Ti porto anche i saluti del presidente della regione, dell'assessore Capone e di tutte le autorità che mi onoro di rappresentare anche se la Film Commission è uno strumento più piccolo e non è un'istituzione così importante ma per noi la tua presenza è un regalo enorme. Io vedo tanti colleghi molto emozionati e ripeto, siamo pronti a fare qualunque cosa per te. Ti aspettiamo nei prossimi giorni qui, se vorrai rimanere. La Film Commission sarà tua serva dal punto di vista cinematografico. Grazie, grazie al direttore della Puglia Film Commission e grazie ancora al maestro. Buon proseguimento. Allora, buongiorno a tutti, è un onore avere qui il maestro Sakurov. e insieme a Daliona Shumakova proveremo a affrontare alcuni argomenti che sono centrali nel suo cinema, nella sua riflessione sull'arte. Dico subito che avrò come faro in questa mattinata, in questo colloquio questo straordinario libro che ormai dieci anni fa Sakurov ha pubblicato per la prima volta tra l'altro in Italia è stata la prima edizione estera italiana che è nel centro dell'oceano tradotto tra l'altro in un magnifico italiano da Liona proprio che ne ha anche curato l'edizione per Bonpiani ed è un libro in cui si ritrovano concentrati come in un flusso di parole quelle che sono le tematiche e le caratteristiche di tutta la sua riflessione sull'arte attraverso il cinema. Sono pagine di diario, sono racconti, sono riflessioni, sono lezioni di filosofia per cui davvero l'invito è quello a riscoprire questo libro se già non lo conoscete e godere delle sue pagine perché è come vedere uno dei suoi film. Noi i suoi film li stiamo vedendo in questi giorni siamo molto felici di ritrovarli perché sono opere sempre meravigliose da vedere. Io, maestro, vorrei partire facendo una nuova domanda nel suo cinema è sempre centrale il ruolo dell'uomo la figura, la presenza dell'uomo l'uomo che a volte è qualcosa di titanico nella sua piccolezza oppure di fragile nella sua forza o di infinito nella sua finitezza ecco, c'è sempre questa dinamica duplice nelle figure che lei ci racconta e sono figure che si muovono in una realtà che sta tra spiritualità, natura, storia tutti elementi fondamentali ecco, in 40 anni di carriera perché lei ha iniziato a fare cinema con molte difficoltà nel 1978 e ha fatto una serie di opere che sono sempre pregne di questi elementi che citavo prima ecco, in 40 anni di carriera questa presenza dell'uomo all'interno della storia come vede che è cambiata? Cosa è cambiato nella dimensione dell'uomo? ovviamente aderendo questo domenico posso scrivere una dottorata rispondendo a queste domande si potrebbe scrivere forse una tesi di dottorato rispondendo a queste domande perché è una domanda molto profonda per la prima cosa io voglio dire che per la prima cosa io voglio dire in una strana che io molto e che io sempre guardo e che e che non in una strana in una strana è stato sottolineato il mio semplice europeo. E ho un figlio e un figlio, un figlio e un figlio. Marco è un figlio, e Alena è un figlio e un figlio. Per entrare in l'Europa, per entrare in quel mondo che mi protegge. Devo dire che prima di venire qui da voi, prima di arrivare qui, vi devo confessare che io l'Italia la osservo da tanti anni, la studio da tanti anni, la amo da tanti anni, anche perché senza Italia è inimmaginabile la nostra esistenza nel mondo. Sì, da 40 anni certo, ma la cosa più importante è che nel mio rapporto anche con l'Italia io ho avuto un padrino, che ho avuto un battesimo, un battesimo nei confronti del mondo, e il mio padrino in questo battesimo è stato Marco Müller. Ho avuto anche madrina che l'ho sottoscritta, ma è una cosa molto importante per me. Per parlare dei valori o delle nozioni così profondi, bisogna avere un sostegno alle spalle. Il mio sostegno è l'Europa. Io mi vedo anche non sempre l'Europa ma più o meno l'Europa, ma più o meno l'Europa classica, che ci ha permesso di diventare ciò che siamo. Se non ci ha rispettato, 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 ma più o meno, non ci ha rispettato il suo ruolo. Il suo ruolo non ci ha rispettato, ma ci ha rispettato il suo ruolo. Il suo ruolo non ci ha rispettato il suo ruolo. E questo è il più difficile e il più tainstino e il più tainstino di un'altra domanda. Per rispondere semplicemente, se si può rispondere in modo semplice, alla tua domanda, io direi che in questi anni il ruolo dell'uomo. Cosa è cambiata dal ruolo dell'uomo? È cambiato il carattere dell'uomo, perché l'uomo nasce già con il carattere e agisce nella storia con il carattere. Il tempo scorre, ma è il carattere che è dato all'uomo e la cosa più importante. E il carattere dell'uomo, forse, è la cosa più misteriosa e l'enigma vera. E a cosa serve il carattere a un imperatore o a cosa serve il carattere a un imperatore o a cosa serve il carattere avere il carattere? Su questo sfondo possiamo ben affermare che tra l'imperatore e un semplice contadino non vi è alcuna differenza. per il carattere per il carattere e per il carattere è sicuro il carattere è una particolare e una abbastanza particolare. Almeno nella formazione dell'uomo dell'uomo maschio soprattutto la presenza del carattere è l'indale costituente. La fatta la fatta canosa e l'imperatore non ha il carattere avanti non sono vede la fatta non esattamente la l'acqua l'esatto è l'esatto L'imperatore può punire il suo suddito nello stesso modo in cui il contadino può punire il proprio cavallo, crudelmente. E non vi è differenza nella punizione infletta, è la stessa natura. E il modo in cui si dimostra la presenza del carattere. Se il carattere è dato da Dio, se è una cosa divina conferiteci, oppure no, io sono convinto che non vi è nulla di divino nella presenza del carattere. Quindi non l'intellecto è una причina stichia di volontà, ma il suo carattere. Non l'intellecto è una причina del carattere, una cosa straordinaria, una cosa straordinaria, ma anche piccoli, 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 se è un presidente, zari, imperatore. E molto spesso le grandi decisioni sono dimostrazioni del carattere e non dell'intelletto o della ragione. E come per esempio le decisioni che sono prese dalle persone al potere, che siano presidenti o lo zari, molto spesso non sono dettate da null'altro che i tratti del carattere personale. E il carattere molto часто provocire il caotico di prendere dei rischi, il caos di sviluppo di società e di storia. Il caos di sviluppo di storia è il risultato di questa straordinaria di nonostrazione del carattere. E molto spesso il caos politico, il caos storico, il caos della società è un segno che fa vedere la natura spaventevole e spaventosa della ingovernabilità del carattere. Vosiluppo il cristallo imperatore o siano presidenti, nessuno non stava spesso che sia un carattere, che sia un carattere, che sia un carattere, che sia un carattere, e che sia un carattere. E quando si legge un presidente o si sceglie l'imperatore, che sale al trono l'imperatore, nessuno presta attenzione alla parte caratteriale della persona. e nessuno mai ha prestato attenzione a questa cosa così importante. Quindi penso che nessun particolare cambiamento legato al discorso di questi anni o di semplicemente volgere una pagina storica sia accaduto o accade. Il carattere. Questo mi fa pensare a un elemento che per lui è molto importante, almeno nei suoi scritti ci ritorna spesso, ovvero sia il talento, l'elemento, la potenza del talento che si esprime nell'uomo, o meglio nella storia, nella realtà attraverso l'uomo. Ecco, la figura dell'artista che è baciata dal talento è una figura che per lei è molto potente in qualche modo. Lei ha detto una volta che l'arte è potente, l'uomo è fragile. Quanto questo incide nella realtà dell'uomo nel processo della storia, ecco, in generale? È un domanda difficile. È un domanda difficile. È un domanda difficile perché il genio e il male sono in realtà ben compatibili. Il diavolo è geniale. Assolutamente, indubbiamente geniale. Perché ovunque sa tutto e vede tutto. conosce in verticale la profondità della vita umana e anche la profondità della caduta dell'uomo. è difficile. Quindi sperare che l'arte possa aiutare a portare una persona al di fuori della condizione di difficoltà è difficile. Oggi in Russia è molto popolare un detto pronunciato da uno degli imperatori russi. La Russia ha solo due alliati. L'armata militare e la flotta militare. senza dubbio è un po' troppo militaristicamente ingaggiato questo. ma io sono sicuro che nessun esercito e nessuna flotta mai difenderà qualcuno. E il Stato può perdere e l'esercito può essere sconfitto. che rimane? Che rimane? Che rimane? Nelle rovine? Che ci sarà? E cosa ricaveremo da queste rovine? e le schizze o le schegge sopravvissute dalla cultura e la cultura è la cosa che non ci abbandonerà mai almeno se non verrà la fine del mondo un apocalisse particolarmente strano ovviamente la comprensione del cos'è la cultura differisce da persona a persona e la mancanza dei canoni la mancanza della formazione canonica nella cultura contemporanea porta anche a un notevole danno perché secondo me la libertà nell'arte è già discutibile non esiste e non esiste neanche l'arte nuova esiste solo un uomo nuovo con i suoi pensieri nuovi che appiraciano a quello che è conosciuto, a quello che è presentato, a quello che è presentato che è già creato e rinnovano alcun suo accento a questi sviluppi di sviluppo che basandosi sulla esperienza del vissuto propria e l'esperienza che sta alle sue spalle porta qualcosa di nuovo, un accento suo in questi cerchi dell'esistenza è molto importante e questo è molto importante per non ritornarci ancora alle guerre e per evitare che cominciano le guerre religiose e anche le guerre politiche noi adesso stiamo praticamente sul filo del rasoio camminiamo vicino alle trincee e tra poco vedrete dovremo saltare in questi trincei e passarci la vita intera là un canone oggi non esiste non solo nell'arte ma neanche nella politica contemporanea un canone come un sistema di limiti per esempio si parla che bisogna investire molto nello sviluppo dello studio dei robot della robotizzazione ma davvero bisogna investirci magari è un po' prematura questa attività così ingegneristica così magari è un po' prima attività così magari è un po' prima attività così possiamo pensarci magari siamo arrivati dove i milioni dei che si faici i lavori e che si faici Forse bisogna prima rifletterci cosa faranno i milioni di persone che si troveranno per strada a causa della robotizzazione della produzione. Ovunque milioni di persone perderanno il loro lavoro a causa dei robot, cosa faranno? Quindi alcune idee tecniche sono così aggressivi, così radicali, che si uccidano la sua vita, proprio la sua vita. Credo che si sviluppano qualcosa, credo che ci si spiega in un'altra parte, ma in realtà si rilassano e si rilassano il futuro. A volte queste idee di, chiamiamolo, progresso tecnico-scientifico, sembrano di sviluppare le cose e portarci avanti, ma forse non sviluppano molto le cose, ma ci rovinano, rovinano qualcosa. Scusate se ho deviato un po' dalla domanda ben concreta che mi hai fatto. No, ma va benissimo. Del resto, diciamo, l'elemento, questa proiezione verso il futuro, ci permette di collegarci a un elemento che per il suo cinema è molto importante, che è quello del tempo. Il tempo è l'unico fenomeno che l'uomo non imparerà mai a gestire, dice lei ad un certo punto. E in effetti nel suo cinema il rapporto con il tempo è un rapporto quasi estraniato, come se fossimo sempre in presenza di una dimensione intima, di una percezione intima del tempo, che comunque non corrisponde a una realtà concreta. E questo mi viene in mente pensando, per esempio, soprattutto ai primi tre film della tetralogia sul potere, dove appunto questo momento di caduta dei potenti è colto in una percezione proprio intima, interna, delle loro realtà. Se parli degli eroi della tetralogia, sono le figure da noi ben lontane, di distanza ci separa. Quindi noi stiamo parlando, che ogni di questi personaggi, che oggi è un'archi-persona, che è un'archi-persona, che è un'archi-persona. E forse abbiamo da fare con le persone che, trovandosi in queste circostanze, possiamo chiamarle archi-persona. E Hitler, e Leni, e Hirohito, che è Leni, in gran misura sono più persone di noi. Più in alto si arrampica la persona sulla scala del potere, più in giù scende la sua qualità personale, umana. Perché ogni persona che sta al potere viene consumata e mangiata dalla società. Ogni potente, ogni uomo ha il potere, altro non è che lo specchio in cui si rispecchiano milioni di volte. E alla fine lui non è più in grado di riconoscere se stesso tra questi milioni di volte. L'intensità della vita delle persone che hanno il grande potere nelle loro mani è disumana. Non possiamo nemmeno immaginare in quale buco nero viene risucchiato, in quale buco nero si trasforma l'essenza dell'anima della persona che sta al potere. Voi forse non notate questo, ma noi vivendo in Russia lo notiamo molto, molto, quale intensità vive il nostro Presidente, come intensamente trascorre la sua vita. L'intensità della sua vita è più che colossale. E' grandiosa. Miliaia di incontri, miliaia di riunioni, miliaia di spostamenti ogni giorno, partecipazione alle riunioni grandi e piccole di importanza enorme e di importanza locale. E poi immaginate, immagino subito, io quanti sarete in disaccordo quando lo dirò, l'intensità della vita di Mussolini. l'intensità della sua vita di Mussolini, la storia della sua vita in sé, e le sue continui spostamenti temporali, le guerre, ferite di guerra, il caos politico è innanzitutto nella sua testa, il pseudo-socialismo, il pseudo-nazionalismo, il suo pseudo-socialismo, il pseudo-nazionalismo, il fascio e tutto il resto, tutto pseudo. E attorno a lui, accanto a lui, e qui è stato veramente sfortunato, tantissime persone che avevano l'energia molto più forte della sua. e anche la figura di Hitler non è studiata per niente da questo punto di vista, assolutamente non indagata. Winston Churchill, un uomo di pratica politica enorme, grandioso, che esisteva dentro delle norme del canone. E al di sopra di tutti questi, una figura di Stalina che gli sovrastava, una figura unica. queste persone hanno avuto la gran sfortuna con il tempo, di trovarsi in quel tempo. Troppe persone forti accanto, troppa ingovernabilità delle persone accanto, e quindi questo momento è caratterizzato, che illustrano la tesis, che nessun uomo e nessuna figura politica non è in modo di riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. con il tempo, rimane sempre indietro. Verdi può scrivere un'opera che esisterà per i secoli in avanti. il greco può fondare una direzione di ricerca psicologica e estetica nella pittura. l'autore della Divina Comedia può scrivere un soggetto e dipingere le figure che lo sopravvivranno per dei secoli. Ma nessun personaggio storico, nessun uomo al potere, non può solo avanzare, andare avanti del suo tempo, non può nemmeno predire in che direzione andrà questo animaletto soffice che chiamiamo tempo. E questa imprevedibilità del processo storico in realtà è tragedia principale del nostro, chiamiamolo, vecchio mondo. Penso che i musulmani o i buddhisti hanno meno difficoltà, mentre nel mondo cristiano abbiamo problemi su problemi su problemi. E' questo che si sposta nella vita umana. Io passerei, piuttosto parlavamo prima dell'incontro della scuola, io farei un salto nel tempo contemporaneo e gli chiederei di parlare dell'importanza del canone di cui ha accennato prima quando ha insegnato questo sul corso di regia che ha tenuto in Russia. secondo me è un'esperienza che nessuno nel mondo come insegnante fa e un concetto molto importante non solo per i registi, quindi gli chiederei magari di approfondire un po' la questione del canone che neanche nel libro è approfondita. canone il canone la cultura è una delle cose più difficili oggi perché il canone cancella la libertà nell'arte, cancella la possibilità di esprimersi liberamente nell'arte. Per esempio il cinema. Il cinema è un'arte molto pericolosa, come ogni arte che si sviluppa nell'arco del tempo e come ogni arte visuale, è molto pericolosa. Il cinema combatte la letteratura, cerca di cancellarla. perché la letteratura dice, il писatore dice al citatore, citai, 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 discutila, citai, 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 citai e citati. il risultato dice al citatore, citai, citai, citai e riflettici. riflettici, 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 io non ti sto proponendo nulla, non ti sto imponendo nulla. lo scrittore dice al lettore, sei libero di un uomo con la mia сердima, Se sei umano, se sei un uomo, hai la testa, usala, lavora. Quindi riflettici, interpreta, diventa il mio coautore. È molto famoso il soggetto di Anna Karenina quando la protagonista si getta sotto il treno. Quando finite di leggere Tolstoi, chiudendo il libro vi interrogate, ma davvero era così? Davvero doveva compiere quel gesto? E aveva un'altra sensazione quando vi guardate un film di Anna Karenina, in cui vi raccontavano tutto, non c'è nulla scelta. E non c'è nulla scelta. E ben altre sensazioni avete dopo aver visto il film dove vi hanno mostrato tutto. E capite, nel film non c'è altra via d'uscita che gettarsi sotto il treno. Nella letteratura lo scrittore sempre non dice la cosa più importante. Nel cinema il regista di solito dice tutto. Molto spesso perché non ha neanche così tanto da nascondere e non ha neanche così tanto da far vedere. Quindi tutto quello che ha lo butto sullo schermo. Ecco. Il cinema, forse dal punto di vista antropologico, è stato un grande regalo al totalitarismo. Ecco che si stava sviluppando il comunismo, ecco che si stava sviluppando il nazismo o il fascismo, chiamatelo se lo volete, i regimi totalitari. E quando arrivavano alla maturazione ecco che avevano loro supporto il cinema. Come se il dittatore dicesse al popolo, ma smette di pensare, ci penso io. Quindi anche il cinema fa la stessa cosa. Vi dice dallo schermo, ma siete qua, vi faccio vedere i volti degli artisti molto belli, la musica bella, il montaggio dinamico è accattivante, masticate, consumate, basta che avete pagato e poi andatevi. E quindi è molto importante spiegare al regista all'inizio, quando comincia la sua carriera, che ci sono ben più cose che non può fare di quelle che può. Non paga troppo attenzione ai sugetti criminali. Non paga troppo attenzione ai sugetti criminali. Oppure dei sugetti, quando una persona non ama l'altra persona, addirittura la odia. E assolutamente pericolosi sono i film in cui vediamo quanto il padre è odiato dal figlio, o quanto la figlia possa invidiare la madre. Senza dubbio nella vita c'è, come no? Ma molte persone che attraversano questa etapa di relazioni familiari così difficili, molto spesso li superano, si curano da queste e si pentano. E se una persona giovane, che si ragazza o ragazza, assiste e vede per molte volte nella sua vita giovane dei simili processi sullo schermo, dell'odio e altre cose, nella vita di questa giovane persona vengono dei cambiamenti irreversibili. Non si può far vedere come una persona uccide l'altra. Non si può vedere la terribile fine di una persona che muore per ferite di armi da fuoco. E' come se uno mettesse il veleno nella tazza di te del proprio fratello quando la sera si prende il te insieme. Perché il male esiste comunque e il male vince comunque. Perché c'è la morte. E noi tutti moriamo. E ciò spesso il processo della morte è umiliante e pesante. E quindi, e molte volte ne ho parlato di questo con i miei studenti, perché il nostro compito è quello di inserire nell'arte la nobiltà, la pazienza e, la cosa molto importante, la delicatezza. Perché persino la fede cristiana, il cristianesimo nostro, non è così delicato come avremmo forse voluto. Molto in storia di cristianesimo, molte uccisioni, molte uccisioni, molte uccisioni, molte uccisioni, molte uccisioni e molte uccisioni. Quante torture e molte uccisioni sono state anche giustificate dal punto di vista della legge, quindi canonizzate. Sono molto felice che i miei studenti hanno veramente ascoltato questo con molta attenzione. hanno assorbito questo, se volete chiamarlo, la programmazione morale. Perché questo, in realtà, è la lotta al male, al male inteso, al male che si compie, sì, lassù la gente di potere prende delle decisioni, ma sono lassù. A livello nostro, a livello della gente, le decisioni che fanno proliferare il male, questo è il problema vero. E l'arte ne partecipa nella proliferazione del male. È evidente che c'è una, come dire, concezione classicistica, classica dell'arte e del cinema. A me, ascoltando queste sue riflessioni, viene in mente il costante senso di dolcezza che promana dal suo rapporto anche con le figure più potenti, più marziali. Penso alla raffigurazione dei militari che è sempre molto dolce, umanizzata. Penso alla presenza di Alexandra fra i soldati che, come dire, che portano uno sguardo umano in una dimensione di ferro e di polvere e di sporcizia. Ecco, mi sembra che già nel suo cinema questo canone sia in qualche modo fortemente pensato, in qualche modo è presente. Uno, sicuramente, è sicuramente un cammino sul canale rafferente, ma anche in qualche modo è un cosiffi rafferente. Ho chiaro che per sudessi i stati rafferenti, con tutti i nostri problemi che rafferenti dai volati rafferenti alla sua storia. Forse in questo è prevalso in me la mia russità, il fatto che io sono russo. Io mi sento un uomo europeo nella mia essenza, ma allo stesso tempo capisco che nel mio profondo io rimango un uomo russo. E quindi penso che non è solo, come dicevo prima, la cosa nazionale dentro di sé, ma è anche un emozionale. Immagino qualcosa che ci dona, che ci dà la grande letteratura russa, che oramai fu la letteratura russa, perché la contemporanea non lo è più, che ci dà questa indole, la pazienza e la possibilità di perdonare le persone che forse anche non dovrebbero essere perdonate. Questo è ciò che la letteratura russa ci ha insegnato. Non so se è possibile parlare di questo in Italia, ma per me è vero che c'è una priorità nazionale in natura di un'attività e in soddisfazione di un'attività culturale e storica. Non so se in Italia questo potrebbe essere compreso o se ne parla. Io penso che l'elemento nazionale nell'operato culturale della persona, dell'uomo, esiste molto importante. E in Europa questo viene spesso etichettato come nazionale. E dove metiamo a questo punto? I grandi autori italiani, registi come Visconti, Antonioni, Fellini o anche il fenomeno del neorealismo in sé, come spieghiamo che tutta quella spinta del nuovo che è arrivata nell'arte in un certo periodo derivava dall'Italia ed era proprio legata all'Italia? La parte nazionale ha un particolare fascino, qualcosa di veramente affascinante nella cultura europea, soprattutto nella nostra cultura europea. Quanto è stupefacente che noi, in Europa non così grandi, siamo così diversi tutti, che vi sia tutta questa varietà e diversità, quanto è importante questo perché nelle altre parti del mondo forse questo elemento nazionale non è così forte, non è così presente. Conciò assistiamo anche al fatto che il contadino, il contadino in Europa, che sia in Germania, in Russia o in Italia, sta scomparendo. Ma se pensiamo è il contadino che racchiude in sé i valori della cultura, della coscienza culturale. E' un'ottima cosa, è un'ottima cosa, ma credo che l'Europa non potrà sfruttare. Preservare questo, salvare, ma temo che l'Europa non sia più in grado di salvare. Perché in Germania, per esempio, non potete affrontare l'argomento nazionale nell'arte e dell'autocoscienza nazionale. Tutti zitti zitti cominciano a scappare da questo argomento. E' un'ottima cosa, inoltre, il carattere nazionale, francese o francese 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 francese. E' un'ottima cosa che si scopre, dove si esprime, non di certo nella moda, sono d'accordo? Io sto allargando tutto al di fuori di argomenti solo. cinematografici perché mi rendo conto e conosco bene di quanto il cinema oggi influisce negativamente sulla società e che conseguenze negativi possa avere sulla società. E' un'ottima cosa che si spiega. E' un'ottima cosa che mi chiedevo... E' un'ottima cosa che mi chiedete. E' un'ottima cosa che mi chiedete anche nel film come vuoi. Io, come regista, vi avverto. Quando venite a vedere un film, non abbandonatevi con tanta fiducia al film, non gettatevi tra le braccia del regista o del cinema, dello schermo con tanta fiducia, non fidatevi così facilmente. Perché ci sono tantissimi registi che sono degli eccellenti mestiranti, diciamolo così, che possono anche essere veramente eccelsi, ma se guardiamo con più attenzione ciò che fanno, sono dei diavoli veri quelli. E una conversazione seria, non pensate che voi siete così pessimisti, perché voi siete personaggi che ai suoi occhi presentate gli italiani, presentate un popolo. Bisogna di tanto in tanto parlare onestamente e apertamente, però posso non avere ragione. Non insisto neanche di avere l'ultima verità. Immagino che Marco Meglio, ascoltando, avrà contato su quanti punti in disaccordo con me. Saranno più... No, poi andiamo a bieda, ciò mi apporrega. Immagino il pranzo che lavata di capo mi farà. No, però noi intanto ci affidiamo al suo cinema sempre con molta attenzione e molta passione, in questo di sicuro non sbagliamo. Io vorrei affrontare un aspetto un po' più tecnico riguardo al suo cinema. Una cosa che noi percepiamo sempre guardando film come Madre e Figlio, oppure guardando film come i film della trilogia Taurus, insomma, il Sole, Moloch in particolare. Percepiamo questa sua attenzione per un'immagine che si distende e si attacca prevalentemente alla superficie. E questo ritorna in una cosa che lei dice appunto nel suo libro, dice che mi interessa la superficie di uno spazio, non il volume. È attraverso la superficie che io voglio trovare la profondità. Ora, è un processo fotografico quello che lei utilizza, però è chiaramente un processo teorico che si traduce anche in una dimensione spirituale molto forte dei suoi film, questi film che citavo in particolare. Ecco, mi piacerebbe se ci parlasse un po' di questo aspetto. E' tutto molto semplice e breve. Il cinema ha la realtà fisica. Fizicura realtà è questo, ecran. Cioè, lo schermo. O un'altra superficie su cui si proietta. Che è una superficie geometrica. Ovvero, tutto ciò che un cineasta crea si estende su questa superficie. Se partiamo dalle riflessioni del tipo illuministico. Dobbiamo vedere chi altro, oltre i cineasti, si trova delimitato alla superficie. La pittura. Solo la pittura. La pittura ha attraversato il cammino da un piccolo granello di sabbia fino ai risultati grandiosi. Perciò bisogna sapere da chi imparare e scegliarsi i maestri giusti. Il cinema non può trovare da sé la propria via di sviluppo. di comandare avanti. E il cinema non riesce e non può criticare da dentro sé stesso. Quindi ogni cineasta e ogni direttore di fotografia deve onestamente rendersi conto che ha a che fare con una superficie. E tutte le variabili, 3D, 4D, 88D, e tutti i possibili variabili, 3D, 4D, arriveremo a 88D, e questi 88 comunque si stenderanno sulla superficie. Se noi siamo d'accordo che nella pittura sono stati compiuti dei risultati eccellenti, veramente eccellenti e importanti, dobbiamo comunque renderci conto che si tratta di eccellenza sulla superficie. Quindi cosa deve fare un cineasta nel tentativo di delimitare il proprio ego? Deve accettare che ha a che fare con la superficie e non deve combattere questa superficie, ma deve accettarla come un dato di fatto. Questo a proposito dei maestri. Forse io sarei stato completamente diverso se non avessi incontrato Marco Müller all'inizio del mio cammino. Perché quando incontri una persona deve riconoscere che questo sia il tuo maestro, uno l'altro. e quindi sentirelo e comprenderlo. Quindi bisogna accettare che il cinema è un'arte che si stende sulla superficie e nessun gioco di volume in questo caso possa essere accettabile. Bisogna piuttosto che giocare con le dimensioni, bisogna imparare a raggiungere il risultato che ha raggiunto Rebrandt nell'equilibrio di chiaro-oscuro, di colori o il greco. No, mi piuttosto. con il suo lavoro con Bruno D'Albonnello, un'operaatore, a cui io amo e per cui io pregostavo, non solo perché è un profondo professionale e un autore, ma anche perché è un'intellectuale, che è stato un'interesse, che è stato un'interesse di Sorbonne in filosofia, è stato un'interesse di opere, è un'interesse di bambini, è un'interesse di zolato. E poi io ho avuto fortuna di lavorare con Bruno Delbonnel, il mio direttore di fotografia, che non è autore solo di film di Sakurov, ma anche di Amélie e di altri film eccelsi, che è una persona più unica che rara, perché oltre ad essere un'eccellente direttore di fotografia, è laureato in filosofia alla Sorbonne. Il ciò lo rende non una mosca bianca tra i direttori di fotografia, ma direi una mosca d'oro. Però c'è anche un aspetto che è quello sonoro, che è molto importante nel suo cinema, e che è quello che in qualche modo aiuta a creare una dimensione, diciamo, di profondità, perché una delle cose che spesso sentiamo nel suo cinema è proprio questa membrana che separa quasi l'aspetto visivo dall'aspetto sonoro. E' un processo sul quale lavora attentamente, credo. Ovviamente, perché non c'è nessuna versione di vita, di svucia, in cui ci sono i film, ma anche il principio del sinfonismo. Un'altra dimensione della vita del suono nella vita, al di fuori del principio del sinfonismo, non esiste. Sinfonismo non nel senso musicale del termine, ma nel senso di riunire ogni suono in un risultato totale armonico. Però mi è legato di questo principio, perché mi è passato mimo l'ubblico di rock musico. E quindi, come un personaggio di suo tempo, non ho visto nessuno di Beatles, nessun altro altro направo. Io ho cercato, come è possibile, iniziare il sinfonismo, il suo semplice, con delle proiezioni rare, come da Mozart, da la musica francese del XX secolo, da Britten e così via. E' stata mia vita. Perciò è venuto in cino. Io sono stato fortunato perché ho passato indegna la mia gioventù rispetto a tutte queste cose di Beatles e gli altri gruppi che gli altri interessavano. Io invece mi dedicavo più allo studio di musica da Mozart a delle cose più complicate del XX-XI secolo fino a Britten e questo mi ha permesso di arrivare al risultato. Egoizm, che c'è in ogni rock musica, in ogni instrumentale musica, la nuova musica, la nuova musica, la nuova musica, la nuova musica, non via nella musica dei compositori precedenti che vivevano di loro musica e tutto sommato ci morivano. E' un grande rimpianto che il gruppo di studenti, del suo corso di regia, non ha potuto approfondire questo aspetto della musica per questioni di tempo, per questioni di organizzazione, ma anche per questioni di cultura di base di generazione contemporanea di persone giovani. Se volete guarire dopo un intervento chirurgico, scegliete il chirurgo che vede la vostra malattia non come una malattia separata di un organo separato, ma come l'insieme dell'organismo in cui qualcosa deve essere aggiustato. Questo vale anche per il cinema. Se voi volete trovare qualcosa di vero, questa è la differenza tra un prodotto commerciale, anche ben fatto, e il cinema vero. Io ho sempre pensato che la parte dell'immagine nei miei film erano le mie gambe, e la parte del suono rappresentava la mia anima. Adesso comincio a dubitarne. Adesso, come vedete Zoppico, cosa ne sarà dell'immagine dei miei film? C'è, a proposito di maestri, giustamente citato Mark Muller, il quale mi permetto di dire che siamo un po' tutti debitori di molto per quanto riguarda l'amore per il cinema. Mi viene in mente però anche un altro maestro che per lei è stato molto importante, che è Tarkovsky. risuona anche un po' in queste sue parole, in questo suo porre l'attenzione sul pericolo in sito nel cinema. risuona anche un po' quello che lei racconta nel suo libro a proposito di Tarkovsky, quando diceva che come fate, affidarvi dello spettatore, è sempre così vicino a voi, raccontavo un po' questa cosa. Ecco, un ricordo di Tarkovsky. ... 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 ma stai la visione e podere, e con le miei pensiero, con le miei, è un grande grande l'impostante, e le sue sue idee. Le sue idee, le due, le orecchie, le due idee. Questo è un grande consiglio. Molto gente è venuto a lasciare queste possibilità. Le pagine della mia amicizia con Tarkovsky sono bellissime, ma ben poche perché lui è morto e è andato presto. Quindi delle nostre conversazioni con Tarkovsky ne serve un bellissimo ricordo e ne abbiamo parlato di tutto, del cinema sì ma soprattutto della vita e alcune riflessioni su questo ho persino un certo timore di raccontarli a giorno d'oggi. Ma quello che lui mi aveva dato e quello che è molto importante non solo nel caso di amicizia con Tarkovsky ma in genere è un certo sostegno fisico-morale, un sostegno che una persona ti dà. E in questo senso forse devo molto anche a Marco dal punto di vista di amicizia perché mi ha sempre dato quel sostegno, quel pensiero, quello che Tarkovsky aveva dato a lui nei primi problemi con lo Stato Sovietico, di difenderlo e di supportarlo nelle diatribe con lo Stato Sovietico. Poi è stato continuato da Marco perché ha saputo nelle conversazioni laconiche che hanno avuto sostenerlo spiritualmente e aiutandolo. E poi non bisogna забervare che quando la sua vita mi ha dato a lui, aveva stato un periodo più difficile in vita. Poi non bisogna dimenticare che quando il destino mi ha portato a conoscere Tarkovsky ha avuto un periodo difficilissimo nella sua vita. Politico abostrimento dentro del Sato Sovietico, i problemi politici dentro la URSS quasi morrente. Biedna, la vera povertà, non ci crederete, la povertà della famiglia. Le sue ossessioni che forse erano anche parte della realtà. Ero ossessionato di essere spiato dalle macchine da KGB che gli sembrava che stessero spiando, chissà e così via. E una totale invidia dei colleghi soprattutto suoi coitani. Non bisogna dimenticare che c'è più che c'è la ria di sé che la società di solito come obie o un'ottoblaino, screito a tutti i nostri enti. E tutti voglio di riapposte. E a tutti i come crederà di questa storia, chi è tutto il soggetto. E a tutti i come un'ottoblaino, che è un'ottoblaino, e l'ottoblaino, e anche la loro città. E' come un'ottoblaino, in cui non ci crede. e questo ingeriora l'emozionale, ovviamente. Quindi quando io sono появi, non ho capito, come mi sono diventata una certa e una un'attività di credito. Perché non so chiede gli amici, 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 non so chiede gli amici. A tu non il come è un tuo молодo gente con una delle linealità con un'attività con una conoscenza, e la vita in Unione Sovietica all'epoca era veramente difficile e l'idea che là in Occidente capitalista si vive da Dio, c'è tutto e la vita è veramente meravigliosa, sono sicuro che non lo era, però ci sembrava che fosse così, quindi tutto questo portava Tarkovsky a uno stato veramente difficile dal punto di vista umorale, dal punto di vista d'animo, quindi in questo ambiente della povertà, dell'invidia-ostruzione dei colleghi, della persecuzione, ovviamente ha trovato in me un interlocutore che forse non è neanche merito mio, ma ha trovato un interlocutore a cui poteva affidare certi pensieri e certe confidenze che non erano affidabili agli altri, con la moglie forse non riuscivo a affrontare queste cose con i colleghi, non è nemmeno a pensare, perciò si confidava con me. E bisogna anche notare però che quei film che Tarkovsky ha girato in Russia non avrebbe mai trovato né fondi, né possibilità di girare in Europa. In Urss lui ha fatto i film veramente costosi produttivamente. E quando a Gioca Ha girato i film in Svezia, il sacrificio l'ha girato, parliamoci chiaro, con i soldi principalmente di Swedish Film Institute, che è quasi una scuola, insomma, con il budget veramente ridotto. Cioè lui girava i film in Occidente con i mezzi molto ridotti e quindi le sue capacità di regista non si sviluppavano più, ma si concentravano per questo motivo qua. Tarkovsky è stato citato in Occidente come una specie di profugo politico e i suoi film non raccoglievano sale pieni, i suoi film non facevano grandi box office, di sicuro come del resto i film di Bergman non lo facevano. Questa è una questione su cui indagare, perché il suo enunciato artistico, i suoi film non raccoglievano le sale piene, ma era più importante ciò che lui poteva dire commentando la situazione politica. Questo è il destino. Bene, io credo che possiamo avviarci alla conclusione di questa mattinata. Per concludere, io vorrei farle una domanda che ci riporta all'origine della nostra conversazione. Il cinema adesso è un'arte che può essere ascoltata da Dio, perché mi riferisco a una frase che lei ha detto una volta, che il cinema è troppo giovane per poter rambire a parlare con Dio. Siamo arrivati a un punto in cui il cinema può parlare con Dio o no? Può avere udienza da Dio? Solo attraverso le persone singolarmente scelte. Ho pensato, mentre ascoltavo la sua domanda, se tantissimi registi si trovassero davanti alle porte del paradiso, alle porte di Dio, bussando, a chi apre? A quelli che si sono sacrificati, o a quelli che sono stati ipocriti. Ad anni maniani, per esempio, aprirebbero la porta? Penso, un'unica donna del mondo del cinema, ma a cui avrebbero spalancato le porte, sembra a me. Ma dei registi, chi potrebbero essere accettati? Difficile dirlo, sicuramente Dovgenko accettato e perdonato. Spero che tutti i peccati di Bergman li saranno perdonati, a condizione che si pente. Non sono però sicuro che nemmeno là su lui si sarà pentito. Drei sicuramente passerà. Oggi, per esempio, abbiamo scoperto una particolare grandezza di Vittor Kosakovsky. Vivo e vedgetto, per vostra informazione. Grandiosna figura. È una figura grandiosa. È ben protetto, vive in Bergmania. Vive in Germania e nessuno lo minaccia, niente lo minaccia. Sta bene. Non posso dire altri nomi. Ognuno nel suo cuore avrà i propri nomi. Fellini dovrebbe stare addirittura nel Consiglio di Administrazione di Dio che fa entrare nel Paradiso. Deve senza meno esserci. Però è una domanda molto importante. Grazie. 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 Grazie.